Buonasera dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1, code per il traffico intenso in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. In FIPILI, code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla Statale 62 della Cisa rallentamenti per lavori tra Ulla e Villa Franca in Lunigiana, in entrambe le direzioni. Sulla 67 Tosco-Romagnola rallentamenti per lavori circa 2 km prima di Dicomano, in entrambe le direzioni. Per la viabilità cittadina a Firenze stasera in orario notturno 21.6, asfaltature e una corsia per volta in Viale Redi, via San Jacopino e via Busoni. Infine per gli aerei per domani è stato proclamato uno sciopero in orario 13.17 per gli aeroporti di Firenze e Pisa. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!